Bonito è, vivire in teoria e cazzo morre Le cazzo morre, vivire no cazzeiro che bonito è Di casa c'è gente, di gente c'è casa Di casa c'è gente, di gente c'è casa Di casa c'è gente, di gente c'è casa Io voglio un pisito come lo principito Io voglio un pisito come lo principito E' terrorismo! 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 Il Regalto sta causando suicidio, questo banco. Siamo dicendo chiaramente che questo banco sta causando suicidio. 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 Non c'è gente, mi gente è in casa! Sono delincuentes, sono incontrolari, sono delincuentes! Non se desausia! Nesta città non se desausia! Nesta città non se desausia! Nesta città non è una crisi, è una estafa! È una estafa! Non è una crisi, è una estafa! Non è una crisi, è una estafa! Nesta città non â... Nesta città non è... Non è una crisi, non è un sistema. Non è una crisi, non è un sistema. Non è una crisi, non è un sistema. Sì, sono un buon trello, sono un buon trello, vivi un caicero che buonico è! Cosa se sente! Cosa, España, tambien in gana! 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 Cosa, España, este banco in gana in gana! Este banco in gana in gana! In gana 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 in gana in gana! Questo banco è in grado di estafa! Questo banco è in grado di estafa! Sta echando la gente di sua casa. Por eso estamos qui. Que lo sape a todo il mondo. Estos bancos sono terroristas. Eston matando a la gente. Eston negociando con sus vidas. Este banco è in grado di estafa! Este banco è in grado di estafa! Este banco è in grado di estafa! E non si negocia! E non si negociano il Partito Popular! E non si negociano il Partito Popular! E non si negociano il Partito Popular! Il Diamo! Abbastaron Studios! Grazie! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.